Ho realizzato veramente un sogno vero, mi ha chiamato Aurelio un giorno, sa, fa la spesa e no, veramente, ho buttato il petto di pollo, l'ho lanciato e ho preso il taxi, stavo dentro il taxi e ho fatto questo percorso bellissimo perché Aurelio, pensando che io abitassi ai Parioli al centro, mi ha fatto, do dieci minuti per venire, ho detto, io sto a prima porta, ci metto almeno un'ora per venire, quindi prendo sto taxi, faccio la prima porta, dove sono venuta, insomma al centro e faccio sto tragitto bellissimo, ho pagato 45 euro da l'anno, ma chissà che mi vorrà pure, poi dentro dei mesi, come Guagliano è un po' stronzo, scusate il franzo, ogni tanto mi chiamo e mi fa i scherzi e mi dice, hello, I'm Quentin Tarantino, ma io ogni tanto c'è casco, ho detto, vai a vedere che alla fine è tutto uno scherzo, mi è venuta in mente, poi ho detto, chissà che mi vorrà proporre Aurelio De Laurentiis, buon Natale a prima porta, insomma, non riuscivo a capire, ed ero piena dei dubbi, poi sono arrivata, sono arrivata, dopo ridete, ma guarda che è stato un dramma, non mi fate ridere che non riesco a parlare poi, poi sono andata da casa, poi invece sono entrata, devo dire che Aurelio, o vedete così, ma è un gentleman, vero? A me sono entrata, perché? Allora lui si è presentato, era il 21 dicembre, si è presentato sotto il palazzo con uno charme pazzesco, con tutte le mani che a me ce la tirate su, gli ho detto, mazza che uomo, sono salita, sono salita a tutto il palazzetto e c'era, no, torniamo a serie, c'era Guaglianone, De Tecala, Carlo Verdone, Luigi De Laurentiis e anche Maurizia Madi, che insomma, niente, mi metto seduta e Verdone mi fa, senti, ma vuoi essere la protagonista del mio nuovo film? Io lo ti bego io, mi bravo, e ho detto, oh ma, insomma, sono rimasta sconcertata, poi se posso dire un aneddoto, dopo che lascio il microfono, perché? Allora, io abitavo a Via Pescaglia, nota via della Magliana, insomma, conoscei tutti la Magliana, dai, romanzo criminale, una zonetta tranquilla. Allora, praticamente c'era questo cartellone abusivo di viaggi di nozze, io c'ero avuto 10-11 anni e c'era questo cartellone davanti il balcone della mia stanza e io, ma è rimasto lì per tipo sei anni e io ogni volta che uscivo dal balcone e vedevo Verdone tutto sbiadito e gli erano rimasti solo l'occhio e io dicevo, ma beato te, no ma lo sai che dicevo io? Dicevo, beato te, dicevo, perché comunque, veramente io so tutti i suoi, voi non potete capire che è stato per me lavorare con lui, io so tutte le sue battute a memoria dei film, mi ha fatto compagnia in dei momenti che una dice, non mi taglio e bene, invece no, mi guardo il film di Verdone, mi riprendo. Cioè, è veramente un uomo che oltre a aver fatto un cinema monumento, perché veramente Carlo poi fa ride, ma c'è pure una poesia, cioè a me mi emoziona come uomo. Cioè, secondo me hai aiutato veramente anche delle persone col tuo cinema, ti posso dire, perché poi quando riesci a dare una positività, a far ridere, cioè è bello, ti volevo dire grazie. Credo che per tutti quelli che hanno la possibilità di collaborare in qualche misura, in qualche modo con Carlo sia un sogno che si avvera. Io soprattutto, diciamo, anche in questo periodo storico, credo che sia importante ricordare che i personaggi femminili di Carlo, e questa è una delle ragioni per cui io sono stata così contenta anche di lavorare con lui, è che sono sempre donne che non sono agite dai maschi, che sono agenti, anche quando si mettono in situazioni particolari, diciamo, come quelle di questo film. Però hanno sempre la capacità di... hanno sempre la vita nelle loro mani, ecco. E anche in questo caso, quando mi ha proposto questo ruolo, dicendomi che nella storia, nel suo film rappresentava la dolcezza, l'accoglienza di una donna, però poi l'ha affidata a una donna che fa un lavoro duro, che fa un lavoro forte, difficile, mappagato, che comunque riesce a mantenere equilibrio, sostanza, sentimento, quindi ecco, onora a lui e agli sceneggiatori che sono capaci di raccontare donne complesse e con umanità. Luna è una ragazza molto più forte di me, molto ottimista, positiva, ha tantissima carica energetica, riesce addirittura, nonostante i suoi problemi, no, le varie... insomma, i vari lati bui della sua vita, nella sua famiglia, ad aiutare addirittura uno come Guglielmo, che stava proprio messo male, insomma. Però riesce in qualche modo a questa solarità dentro, a questo grande cuore, riesce a trascinare inizialmente questo personaggio appeso morto, perché lui era veramente depresso e quindi lo butta a capofitto nel mondo social, che per Guglielmo era, insomma, una cosa veramente improbabile, e piano piano riesce in qualche modo a rimetterlo in pista. Lei, come tutti i personaggi che ha scritto Carlo in tutti questi anni, ma anche come ha scritto Nicola Guaglianone e Menotti, che Guaglianone sta sempre in mezzo quando mi riguarda a me, insomma, però riesce, riescono, secondo me il connubio tra Guaglianone, Menotti e Verdone è una bomba atomica, perché riescono ad esaltare tantissimo le donne, insomma, non è, io credo di non aver fatto la coatta scritta dal pariolo, no? Cioè una coatta piena di cliché che poi neanche esistono. Credo di aver fatto un personaggio bello perché era vero e versatile, io credo che i personaggi di Carlo sono sempre belli perché hanno varie sfaccettature e quindi è quello che li rende vere. Luna è poi provocatoria, si veste un po' strana, tutta scosciata, provoca, addirittura forse esagera anche nel modo di parlare. Alla fine poi, insomma, lei viene da una famiglia, sì, di, insomma, non ricchissima, però a questo padre, no? Come avete visto, comunque, che non c'è da una lira, che non c'è da una lira, mi ricorda pure qualcuno, però non posso dire niente in questo caso. Hai parlato all'inizio in modo molto così veloce e superficiale del fatto che nel film ci possa essere qualche messaggio. Io ho trovato, sempre sulle ali, come si dice in questi casi, della commedia, un messaggio molto chiaro che è quello un po' del pregiudizio e del quello di non aspettarsi, ovviamente, aiuto, sostegno e in alcuni casi anche salvezza, possiamo dire, da persone uguali a noi che appartengono al nostro mondo, anzi, ma da persone in contrasto insomma con il nostro mondo, come diceva prima Verdone. Quindi volevo chiedere se questo aspetto è stato volto solo da me oppure se c'è realmente nel film e cosa ne pensano soprattutto le due attrici, visto Maria Pia Calzone che viene anche da Sirene, quindi è una cosa talmente diversa dal nostro mondo. Sì, assolutamente sì, è una nota del film. Io credo che l'aspetto, cioè che la commedia sia sempre salvezza e lo dimostra quello che ha detto Ilenia, quindi che cosa è stata la commedia a volte su di lei e la commedia a volte ci dimostra che la salvezza può venire da qualsiasi parte, da qualsiasi angolo, invece noi siamo abituati a ragionare per categorie, per gruppi e questo è quello che assolutamente racconta il film. Il mio anno era un signore borghese, quindi completamente diverso da Luna e Luna invece era una ragazza di Borghata, quindi sicuramente appartenevano a due mondi diversi e questo crea un bel contrasto che poi dove nasce sia il dramma sia una comicità poi anche, no? Storna bene, no? Non ho capitato mai. Il contrasto, che spesso? I contrasti? I contrasti portano a delle risoluzioni inaspettate, più positive piuttosto che a se due invece sono alla pari, sono uguali, cioè vedi l'infermiera con uno che lavora una cosa, il rapporto tra me e te che mi segui da una ragazza di periferia, io che sono un utoparudato, un mondo vaticano eccetera, poi in realtà l'amicizia o i sentimenti o l'affetto, l'amore è più, sembra strano ma è più facile che sorga quando ci sono questi contrasti piuttosto che tra pari tra un altro borghese come me, capito? Il fatto di poter tornare a lavorare con delle donne che sono sempre stati i film a me più congeniali, insomma pensate a io e mia sorella, a Maledetto il giorno, a Perdiamoci di Vista, L'amore eterno finché dura, Colaggerini, Iris Blonde, Viaggio di Nozze e Compagnia Bella, alla fine venendo da due film come Posti in Piedi in Paradiso e L'abbiamo fatta grossa, mi intrigava poter esplorare questo universo femminile soprattutto in un momento come questo, un momento di grande smarrimento della società dove siamo tutti i problemi, dove c'era un po' anche una strizzata d'occhio ai rapporti, alle relazioni nate nelle applicazioni, quindi ho trovato che questa era un'idea che si poteva sviluppare bene, mi sono trovato molto bene con questa idea, ho cercato come al solito di esaltare, di fare il possibile, di esaltare al massimo le mie attrici, ho avuto accanto una ragazza straordinaria che è Ilenia che ha dato tutto a se stessa, tutta se stessa con molta naturalezza, con molta verità, ho avuto Maria Pia, Calzone accanto, ho avuto veramente Lucrezia Lante da Rovere, Paola Milaccioni che sono impegnati in spettacoli teatrali quindi non si scusano, ringraziano ma non so potete venire, insomma mi sono trovato molto bene, ecco insomma è la mia condizione ideale quella di essere in un angolo di un ring e menato... Ma t'hanno menato un po' anche nel convincerti a fare le scene di ballo eccetera perché quelle... Beh là è stata diciamo così un'idea chiaramente di Nicola Guaglianone e Menotti perché a me sinceramente non sarebbe mai venuto in mente, io sono sempre stato attaccato molto al reale, realistico, quindi un polo chindarico così non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo. Loro hanno insistito convincendomi che forse era arrivato il momento anche di azzardare, di uscire fuori, insomma di dare slancio un po' a una certa creatività e allora alla fine mi sono convinto, mi sono preso un giorno per rifletterci e ho detto speriamo di essere capace a fare una cosa decente, ma poi certamente con un aiuto come quello di Luca Tomassini insomma è stato tutto più semplice, tutto più facile e il gran merito è suo, c'è poco da fare, la coreografia è sua. Abbiamo lavorato in modo molto particolare, per me è stata una sorta di shock perché poi mi sono trovato davanti a Carlo che non conoscevo personalmente, la prima volta che lavoriamo insieme e mi ha chiesto appunto di inventare anche tutte le situazioni coreografiche, quindi è stata una grande responsabilità ma soprattutto mi ha minacciato perché mi ha detto non deve essere l'ultima scena che c'era nella mia vita perché giustamente mi ha detto io non ho mai ballato e in realtà invece attingendo da tutta quella storia che io conosco di Carlo Verdone come tutti noi, come pubblico, come fan poi, in realtà lì dentro ci ho puntato un po' tutto quello che mi ispirava proprio Carlo Verdone e lì dentro c'è un po' tutta questa storia, abbiamo trattato questa scena in un modo molto hollywoodiano perché abbiamo fatto degli storyboard, abbiamo fatto degli studi, ce lo siamo disegnato, scritto, io ho fatto tante proposte a Carlo perché ho detto Carlo ti propongo tante scene, tante possibilità e scegli poi, quindi c'era questo menù molto vasto, è stato Carlo poi che ha scelto le scene da sviluppare, ci siamo molto divertiti con i costumi, c'è stata veramente una follia libera, una testa libera per tutti noi, ci siamo veramente buttati dentro questa fantasia e ci sono dei richiami storici a tanti film, a tanti musical, addirittura Falqui che era un desiderio anche di Carlo, questi mondi anche un po' quasi anni sessanta, questo sapore è un po' anni sessanta e poi è stato bello la scoperta con Carlo, proprio di vedere Carlo dentro a questi mondi, quello che è successo poi che abbiamo girato veramente ore e ore e ore potremmo montare un musical su questo balletto, abbiamo girato per ore e ci sono tante cose, addirittura non riusciamo a fermarlo Carlo sul set perché all'inizio aveva timore e poi dopo con la musica, perché mi trovavo a muovermi per la prima volta, dico oh so ballare, io non ho mai ballato in vita mia, è stato molto bello scoprirlo quasi ragazzino insomma, è stato molto emozionante. Volevo arrivare al termine del film raggiungendo un momento di grande pagatezza, che ci fosse un grosso abbraccio che si danno i protagonisti del film, ma darlo anche al pubblico in qualche modo, volevo una certa leggerezza e pagatezza, ci sono riuscito con quel finale al quale sono molto affezionato perché mi è venuto molto bene, devo ringraziare le mie attrici, si è riuscito così bene come le altre attrici che non ho menzionato, Elisa Deusani, Francesca Manzini, Paola, Lucrezia, è stato veramente quella leggerezza, quel momento di serenità di cui abbiamo tutti quanti bisogno, quindi questo è il mio piccolo messaggio che manda il film, non manda grandi cose, però con la passeggiata notturna, lei che va via con la guardia svizzera, con la Roma di notte, pacata, serena, è come dare una carezza, la sono data io da solo una carezza, però l'ho potuta dare anche al pubblico e anche alla mia città in qualche modo, ho cercavo di farla nel migliore dei modi Roma, non sono andato a cercare le magagne, l'ho potuta rappresentare per quello che è veramente, mi auguro veramente che un giorno possa ritornare ad essere quello che ho fatto vedere io con le nostre luci, con le nostre correzioni di colore, quello che ti vale, però quella del finale soprattutto.